Andiamola per buona Io adesso faccio un pochino di semplici gattini Abbiamo avuto quest'idea di fare questo video anche perchè per una volta Ho le unghie tutte belle curate, con una forma carina Perchè siamo andati appunto all'estetista Bangkok Perchè sennò io non ci vado a farmi le unghie E io non ho mai avuto le unghie così, c'è più che altro, così uniformi Mi ha detto, vabbè, ce l'ha fatto sto video Lei ha detto, vabbè, mi sacrifico per il bene del tuo pubblico Mi sacrificherò Le do lo suo collo Io comunque Da sempre amo i gattini ma anche faccio i gattini Mi ricordo che all'università a volte Poi non lo fate Ma a volte quando mi annoiavo Magari mettevo a fare i gattini su qualcuno davanti a me Ovviamente comunque con confidenza Però magari mettevo lì con la matita E tipo facevo tutto così sulla testa Praticamente la persona davanti a me si attormentava E' super rilassante sulla cura da dito E poi sì anche sul collo Ma anche sulle braccia è molto bello secondo me Invece non mi va impazzire sulla parte sotto della schiena Perché sono grossi all'etico E secondo me è tanto vero se ne sono collo E non lo so, no? No, non lo so, prego Ah, però non si vede in licoratura quindi Comunque Madonna quanti priviti Oh, scusa E Io comunque me lo sento Che Qualcuno verrà a chiedere Sicuro Nei commenti come si chiama l'elastico che compra Ti giuro sono quelle piccole cose Che però la gente sicuramente chiede E in realtà anche io lo chiederai se vesti i capelli lunghi Eh, non mi ricordo, ti mando il link di Amazon Va bene Sarà affiliato Perché anche io ho cercato un sacco un elastico senza... Senza le giunture di plastica Sì E che reggesse Ma poi si mimetizza anche abbastanza E infatti per quello mi piaceva un sacco Quindi li compro sempre quando mi piace Ovviamente È ovvio Infatti mi sembrava strano che fosse sempre quello del tuo cavolo Che dedizione Sono tipo partita 5 Quando mi perdono le compro Vasti a fare l'abbonamento tipo ogni 6 mesi Ti arriva Ok, facciamo gli ultimi 2-3 minuti in silenzio Ok, facciamo gli ultimi 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 Ok, facciamo gli ultimi